Ciao a tutti e benvenuti su Ideare Casa. Vi presento una cucina montata a Castel dell'Alpi dove le case sono in sasso. La nostra cliente ha ristrutturato e ha lasciato una parete totalmente in sasso adibita alla cucina. Quindi ci ha chiesto una cucina ad angolo con la penisola e in questo ambiente, su questa parete, installiamo questo tipo di cucina. La struttura della cucina è stata montata, abbiamo fatto anche le sagome per poter accedere alla parte impianalistica. Procediamo adesso con il top e i pezzili. Il top in laminato di 4 cm è idrorepellente sia all'interno della parte della giunzione sia nel punto d'innesto del lavello. Per poter inserire una dispensa angolo più alta della misura normale, abbiamo spostato l'interruttore luce dalla parete alla schiena della nostra dispensa. La nostra cucina è stata montata ed è completa. È un color grigio abbinato ad un top effetto pietra marrone e con la cassa in lava. Ha una gola con un taglio a 45 gradi ed è completa di elettrodomestici della KitchenAid. La K invece è della Falmec e ha la predisposizione per la raccolta della condensa dedicata ovviamente ai piani all'induzione. È una cucina d'angolo con penisola. Come avete visto abbiamo ricavato anche la presa per l'interruttore spostato dalla parete alla penisola. La nostra penisola internamente è tutto quanto ovviamente da poter adibire all'uso contenitivo. Inoltre abbiamo giocato anche con l'altezza dei pensili grazie alla parete in sasso che ha permesso un attimino questa differenziazione di altezze. Per tutte le nostre cucine su misura visitate il nostro sito www.darecasa.com ed i nostri canali social Facebook, Twitter e Telegram. Ciao e al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!